Doveva essere un chiarimento per una relazione finita tra due fidanzati ma si è trasformato in una rissa tra parenti e amici dell'ex coppia. È andata male ad uno di loro, un giovane ferito al fianco con due coltellate e adesso ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia. È successo la scorsa notte nel rione Tommaso Natale a Palermo dove alcuni ragazzi tra i 18 e i 19 anni si erano incontrati per parlare della storia finita tra i due giovani. Poi i toni si sono accesi, la discussione degenerata e qualcuno ha tirato fuori un coltello. Tra i presenti c'erano l'ex fidanzato e il cognato, erano loro a doversi chiarire ma entrambi erano accompagnati da altre persone pronte a spalleggiarli. Il ragazzo raggiunto dai due fendenti al fianco era proprio uno degli accompagnatori. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato subito trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Sulla vicenda indaga la questura di Palermo per tentato omicidio. Grazie. 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 Grazie.